Ciao a tutte, oggi vediamo come realizzare un pigiama, è davvero molto carino. Per il pantalone ho utilizzato un cartamodello presente sul numero di novembre di Cartamodelli Magazine e in particolare questo pantalone qui. Dà la cucitura molto facile, infatti sono veramente tre cuciture laterali e il cavallo. Invece per quanto riguarda la camicetta ho utilizzato una blusa del pigiama che avevo già con me e più per le manichette le ho fatte a mo' di kimono come questa immagine che avevo pubblicato su Facebook che vi era piaciuto molto. Allora andiamo a vedere subito come realizzarlo, il risultato finale a me è piaciuto molto, fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi tu, se non lo hai ancora fatto iscriviti al mio canale, io sono Natascia della Dolcearia, una appassionata di cucito proprio come te, quindi non perdere i futuri video e clicca qui sulla casella e iscriviti. E intanto noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Per confezionare i pantaloni trovo il mio cartamodello dalla rivista, seguo le istruzioni e dispongo la carta velina sopra il tessuto piegato in doppio, segno i punti fondamentali e taglio lasciando i margini indicati. Inizio disponendo le gambe diritto contro diritto, segno i punti di un uione e vado a cucire il lato esterno ed interno della gamba con un punto diritto. Cuccio anche il cinturino disponendolo diritto contro diritto e cucio i lati corti, sempre con un punto diritto. Ecco qua già cucita una gamba, davvero molto molto semplice, cuciti anche i lati corti del cinturino che andrà piegato in doppio e stirato. Per cucire le due gambe insieme dispongo una gamba dentro l'altra, diritto contro diritto, faccio combaciare la cucitura centrale della gamba, dispongo degli spilli e cucio tutto il cavallo con un punto diritto. Dopodiché dispongo il cinturino sul girovita verso il basso e cucio tutto intorno lasciando un'apertura per poter poi inserire l'elastico tagliato della dimensione della nostra vita con una spilla da baglia e poi vado a chiudere il cinturino. Infine faccio l'orlo in fondo del pantalone, io l'ho fatto piccolino, ripiegando due volte su se stesso il tessuto e il pantalone è già pronto, veramente facilissimo. Procedo quindi per assemblare la blusa. Prendo una blusa già che possiedo del mio pigiama, vado a disporla sopra il tessuto, piego dentro il collo, ripiego le maniche perché non ho abbastanza tessuto per farle lunghe e ritaglio tutto intorno, solo una metà, lasciando un centimetro, un centimetro e mezzo di margine. Per la manica la faccio un po' più stondata come la foto per la camicia da kimono e poi taglio anche il fondo. Arrivo fino a metà e quindi per confezionare la blusa esattamente simmetrica ripiego il tessuto su se stesso e taglio esattamente allo stesso modo dall'altro lato. Ovviamente la blusa l'ho fatta piuttosto larga per poterla indossare senza doverla sbottonare perché questa non prevede nei bottoni né nella cerniera. Quindi cercate una blusa che potete indossare senza doverla sbottonare sul davanti e poi perché il pigiama deve essere comunque comodo. Qua fate uno scollo come desiderate, io ho deciso di farlo a punta, quindi ho posto uno spillo a metà dove volevo che arrivasse la mia V, ho piegato la parte davanti della blusa a metà e faccio un taglio a V, potete farlo anche giro collo o scollato. Ecco qua pronti i due teli. Per fare la bordura dello scollo a V prendo una striscia larga circa 6-7 cm la dispongo piegata in doppio verso il basso come nel video nella foto e vado con un gessetto a segnare la V dove andrò a fare un punto. Vado a cucire quindi una V che avrà il vertice a metà di questa striscia e arriverà poi fino agli spigoli piegati in doppio formando appunto una V. taglio qui il tessuto in eccesso del mio triangolo lasciando comunque un pochino di margine un 5-6 mm, incido il tessuto fino alla cucitura dello vertice, lo apro e qua si è formato il bordo che andrò poi a cucire a V che vado a cucire nel mio scollo. Apro bene i margini, li stiro e vado a fare poi una cucitura lungo i margini per rifinirli. Io l'ho fatta con la taglia a cucire ma la puoi tranquillamente fare anche con la macchina da cucire. In questo modo il profilo del mio scollo a V è già pronto. Vado quindi a disporlo sopra la mia blusa, metto uno spillo esattamente al centro, in basso della V dove deve stare proprio a metà, dispongo diritto contro diritto con le cuciture rivolte verso il margine, arrivo, cucio prima a un lato, arrivo fino esattamente dove c'è lo spillo, quindi nel centro della mia V qui sollevo l'ago, mi giro con il profilo dall'altro lato, dispongo il margine sopra l'altro margine e cucio sempre con un punto diritto, io l'ho fatto cucito a filo della cucitura della taglia ai cuci. Incido il punto al vertice a V ed il profilo è già pronto, molto carino. Se uno vuole può ribatterlo, fare una cucitura vicino per tenere il margine più in basso oppure semplicemente stirarlo, io non ho fatto una seconda ribattitura. Allo stesso modo procedo per lo scollo dietro e ricavo il profilo esattamente nello stesso modo. A questo punto i due teli sono pronti, dispongo diritto contro diritto e vado a cucire le spalle e i fianchi con un punto diritto che poi andrà rifinito. Faccio poi chiaramente anche l'orlo in fondo. Ecco qua, già finito. Per rifinire le maniche puoi semplicemente fare un orlino dentro oppure applicare due strisce così come abbiamo fatto per il collo. Quindi prendi una striscia larga 8 cm, la ripieghi, la cuci nei lati corti e poi la cuci tutto intorno alla manichetta. Anche qui ho fatto l'orlo in fondo alla camicetta sottile, ho cucito appunto i profili delle maniche e la blusa e il pigiama è già pronto. La blusa comunque è molto versatile. Effettivamente si può utilizzare anche con altri capi, pantaloni, gonne. È molto carino il tessuto, mi piace molto. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere cosa ne pensi, lasciami un commento se non lo hai ancora fatto e iscriviti al mio canale. Ciao!